Ciao a tutti amici, oggi vi sono proprio giù, vedo tutto nero, dipende dal fatto che insomma mia madre sta molto male, io sono solo, senza lavoro, senza amore e mi sono rotto anche la cosa del mio, la mia collaboratrice dopo me la cambia dopo, potrò suonare qualcosa senza la mia collaboratrice. Grazie a tutti. Grazie a tutti.